S'è richiesta una proroga di due mesi all'Agenzia Interinale che ha in carico i lavoratori dell'azienda speciale, decisione presa con la gestione commissariale. Sono circa 130 i lavoratori che sperano in 2019 sereno. La proroga comporta orario ridotto per i lavoratori, quindi con un ennesimo sacrificio dal punto di vista economico. I sindacati, come chiesto all'ex sindaco Palumbo, chiedono un tavolo di concertazione che si occupi del futuro dei lavoratori. Grazie a tutti.